Buonasera a tutti e benvenuti alla conferenza stampa del progetto Location and Fashion. Mi presento, sono Caterina Pancotto, Communication Manager e titolare della FIRST Comunicazione, agenzia di comunicazione integrata. La FIRST coordina la gestione del brand nel processo comunicativo ed il mio motto è comunicare crea energia. Il progetto Location and Fashion nasce da questa voglia di comunicare e quindi di creare energia e sinergia. Nasce da un'idea, quella di sostenere le aziende da un punto di vista comunicativo e seguirle nel loro percorso. Location and Fashion è un nuovo format che intende proporre una novità da un punto di vista comunicativo con un progetto nuovo che coinvolge principalmente quattro soggetti. I soggetti sono le aziende, le location, i modelli, modelle, attori ed attrici e gli opinion leaders. Le aziende produttrici sono aziende del settore moda ma anche di altri settori merceologici, interessate a progetti di comunicazione che possano esaltare le peculiarità dei loro prodotti ed in generale del Made in Italy. Le location sono luoghi di interesse storico, artistico e culturale, ad esempio residenze private, enti e associazioni culturali che vogliono promuovere le bellezze presenti nel territorio. I modelli e gli attori sono ragazzi e ragazze che vogliono proporsi come protagonisti nell'immagine moda o in ambito pubblicitario e cinematografico. Gli opinion leaders invece sono personaggi operanti nel settore dell'immagine, nell'editoria, della comunicazione che vogliono raccontare le proprie esperienze o intervenire su argomenti trattati. La sinergia che nasce da questi quattro soggetti dà vita ad un nuovo format comunicativo che intende risaltare il nostro tanto rinomato Italian Style.